Buongiorno, ben trovata alla Toscana in Bocca. Salve, grazie. Senti, partiamo con una domanda sportiva e no gastronomica. Che giochi in porta? Ma quando un centro boa ti fa le finte, come fai a non finire a Savoillardo? Il centro boa finte le fanno poche, però quando fanno le finte è difficile non finire a Savoillardo. Ti ho spiazzato con questa domanda. Senti, parliamo di cose serie invece. Sei una volontaria di ante? Sì, volontaria no. Ant è parte della mia squadra di pallanuoto, la squadra del cuore. E quando possiamo diamo una mano. Ecco, pallanuoto, sei la più giovane medaglia d'oro italiana, portiere alle Olimpiadi di Atene, direi. Esatto, nel 2004. Poi ho perso il conto, medaglie agli europei, coppe dei campioni, scudetti, eccetera, e giochi a Prato. Esatto, sì, sì, ho comprato in Serie A, nella Prato Waterpolo, è una società che è passata da un pochi anni fa, è una piccola realtà, però insomma, stiamo facendo tutto per farla diventare grande. E Ant ci sta aiutando. Ecco, nella tua carriera hai giocato a Firenze, hai giocato anche in Liguria. Sì, sì, due anni a Rippo. Tanti successi. Sì, sì. Senti, ma fare il portiere a pallanuoto, senza mettere i piedi sul fondo della piscina, com'è? No, diciamo che dopo un po' diventa anche normale, la normalità, diventa difficile il contrario, toccare. Sì. Va bene, senti, hai assaggiato anche qualche piatto qui alla Toscana in bocca? In realtà non ancora, però tra un po' di novalo. Benissimo, allora ti chiederemo anche qualche indicazione su quello che hai assaggiato. Volentieri. Ciao Elena, a presto. Grazie. Grazie.